E' stata riaperta sabato via Torricelle in località Spinazzo di Capaccio Pestum. La strada versava in stato di abbandono da tempo ed è stata interessata da un intervento di messa in sicurezza attraverso il rifacimento del manto stradale, completamente deteriorato in più punti. I cittadini potranno così percorrere finalmente in sicurezza questa strada, ha affermato il sindaco Franco Palumbo. Questi interventi dovrebbero rappresentare la normalità, ma perciò che non è stato fatto in passato è diventato per noi straordinaria età. Questo ci fa capire quanto abbandono abbiamo trovato. Ma noi, ha concluso il primo cittadino, siamo abituati a rimboccarci le maniche ed è quello che abbiamo fatto dal primo giorno.